brava spara semi no 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 siamo già cominciando a avere dei problemi non va bene no lui un game brucia tutto poi un'altra volta c'è quello che brucia no 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 c'è la tempesta di sabbia ma sottose di secchio ma sottose di secchi pieno di quelli che bruciano cancellare tutti ce l'ho fatta ce l'ho fatta tutti i salvi adesso tu levati tu li devi tutti ammazzare ne è rimasto uno solo cos'è ne si era mangiato un be che faccio l'ultima no 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 non ti do i soldi delle spara semi anzi no mi ha messo qua non inseriremo le spara semi qua nell'egitto dai mettiamo tanto con girasole poi dopo di questo intanto liberiamo poi le tombe non ancora questo e veniamo questa intanto raga è utilissima la mangia tombe dovrebbe essere una delle più utili di tutte se non si la mangiano poi perché possono anche mangiarla sbagliato a metterla tempo rotta questo no morì tutti tutti morti no non ha funzionato non ha funzionato non ha funzionato no no non ha detto mi sta rubando tutti quanti soli ho troppe tombe troppo casino mangi la tomba questi sopposto non servono adesso basta tu mette le tombe non sta andando bene stavolta non sta andando bene girasoli sono tutti al massimo per fortuna però non so quanto resistono hanno ancora le noci la formazione è completa almeno nooo le tombe qua che non passa nessuno ancora no qua i servai che non funziona che uno ce l'ho fatto che casino è successo mentre non guardavo no congela fa qualcosa di utile ce la possiamo fare ce la possiamo fare possiamo farcela ce la possiamo farcela cheat scortex vabbè comunque sono tutti i vivi per ora c'è un problema a parte questo che sta continuando non mi aspetta ok ora posso congelare togli togli basta è stato troppo ragazzi spero che il video no spero che il video sia piaciuto no non mi interessa spero che il video vi sia piaciuto no 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 io non ne faccio un altro adesso serve una pausa serve una pausa diremo nel prossimo video in cui forse boccheremo una nuova pianta quale città oppure una pignata prossima la prossima era il cavo il botto era non mi ricordo più il cavo il botto poi la doppia spadasemi super spadasemi i doppi girasoli e poi c'era l'ultima ok noi abbiamo visto anche nuovi zombie e ciao 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 ciao